Ciao a tutti ragazzi sono Nelly Ram, vi sono mancati i miei video successo, ci risiamo! Eccoci qua in un nuovo video pensato e scritto e diretto da me ovviamente Comunque ragazzi sono normalissima, lo devo dire Questo video sarà perché i ragazzi si fanno le pippe Tante ragazze se lo chiedono, ma ragazza è normale Hanno una terza gamba là a mezzo, ma che ce devono fare se non sgrullassero tutto il giorno? Ma fanno bene! Ragazzi pure io se ce l'avessi passare tutta la giornata a sgrullarmelo, ma che davvero? Tra l'altro la cosa più figa è che se voi vi trovate in mezzo a un incendio Non vi serve l'istintore, vi basta un ragazzo, lo fate bere Dopodiché lo pia a me e spegne il fuoco, è la cosa più fantastica del mondo Poi cioè ragazzi diciamocelo, se il ragazzo si fa le pippe Pordiché voi non siete bravi a letto, perché se no ragazzi i pippe non se li fa Quindi dategliela di più e pensatene meno Che pare che immaginatevi quanto è scomodo avviene una cosa che come poco poco lo tocchi te cresce Cioè mi pare una pianta Io non potrei mai, cioè non potrei mai quindi almeno fategli fare quello Perché già è scomodo, no, averlo Voglio dire, se mentre caminete salunga che fai? Ci appenni i panni sopra, ma che ce fai? Che pare che ho sempre pensato questa cosa, no, tra l'altro Ma l'ho pensato sin dal liceo Ma se i ragazzi prendono il Viagra e gli esedrizza, gli esedura Gli esedura, no? Se le prendiamo noi ragazze, no? Che effetto ci fa? Rimaniamo in piedi? Cioè tipo rimaniamo firme, dure, in piedi? Voi immaginate? Riflettete su queste cose ragazze Queste sono le grandi incognite della vita E se le ragazze prendessero il Viagra? Secondo me rimaniamo tipo così, tipo stuzzicadenti tutta la vita Tipo qualcosa del genere Che poi ragazzi fa anche schifo Perché poi dopo torna tipo, pare un vermicello, no? Pare tipo un animaletto Cioè, eh, 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 eh Pare tipo una tartaruga, no? All'inizio esce fuori, poi dopo si ritira nel gucio È qualcosa di veramente imbarazzante ragazzi Sono contenta di essere una donna, francamente Tralasciando che ci sono anche quelle che invece de, non lo so Un buchino Poi c'hanno una caverna C'hanno un formicaio dentro Roba che se ci affondi c'è l'ego Cioè veramente C'entri tipo omino con l'elmetto e la torcia Perché non è che sono solo i maschi ragazzi Perché c'è chi dar dito, poi passa il gomito Cioè veramente, ma seriamente ragazzi Cioè quindi non è che sono solo i maschi Anche le ragazze, attenzione Conciuto ragazze che porco due Per quanto ce l'avevano grande Ci potevi parcheggiare una smart dentro Porca troia Poi ragazzi Vedo talmente tanto troiaio in mezzo ai social Che porco due Ci sono ragazze che se poco poco scoppia la guerra Tra Corea e America C'hanno C'hanno un bunker atomico Dove rifugiasse là dentro Ma veramente Comunque ragazzi Io direi che posso anche andare al lavoro Che cosa abbiamo imparato oggi Uno Che con i maschi Ci puoi salvare la vita Perché lo puoi salvare come estintura antincendio Due Che se si fanno le pippe Vuol dire che te non lo sai fa Non sei proprio scopà Tre Che esattamente come i maschi Anche le ragazze lo fanno Che si sono grotte Che quando ci affondi c'è l'ego E bunker atomici dove rifugiare Cinque Che io dovrei essere Come minimo a SkyTG24 E invece sto in una macchina a parlare Vado al lavoro ragazzi Ciao Ci vediamo al prossimo video Cercherò di farlo più normale possibile Però scusate Le cose vanno dette Da Lele Rem E dalla macchina mia Questo è tutto Ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.